Ciao a tutti, dopo grande successo vi farò un'altra dedica. Allora, la prima dedica la faccio a Concetta. Dovete indovinare che canzone è. Aspetta, com'è che era? Allora, perché siccome c'ho la tastiera piccola, qui c'ho due bottoni per cambiare la tonalità, la nuova, le ottave. Ok? Allora, prima canzone la dedico a Concetta. Allora, eh... Allora, prima canzone la dedica a Concetta. Ah, ecco, adesso bisogna scambiare. Finita, adesso il resto la sapevo a casa, eh, però faccio la prossima volta, perché non abbiamo tempo. La seconda canzone la voglio dedicare a Marco Gentilini. La seconda canzone la voglio dedicare a Marco Gentilini. La seconda canzone la voglio dedicare a Marco Gentilini. La seconda canzone la voglio tête. Questa canzone la deve importare a Marco Gentilini. Questa è la domanda. Allora, la bambina non ha cambiare a��릴게요. Va bene a lei di Cristo. Ha v balancingato la tomba. padano, però visto mi sono messo la maglietta verde per l'occasione, allora vi suonerò un'altra canzone classica, visto che non ho quella di Verdi, faccio questa molto più facile, l'intro eh, perché non abbiamo tempo, Ciuschi non è che ho fatto lo studiolo per te, l'ho fatto per fare le foto, allora, ci vuole un bel, vedi, perché io ho garage band e posso spattaccare tutte, eh, mettiamo, posso spattaccare tutti gli strumenti, eh, allora, ci abbiamo, lo log, dove è quello, cattedra, ecco, a Grazie a tutti. Ho sbagliato. Grazie a tutti. Finita. Vabbè, la fine l'ho fatta un po' veloce perché non abbiamo tempo. Vabbè, questa la faccio la prossima volta per la prossima dedica. Allora, per il video, ciao a tutti.